Potrei dirvi che mia madre si chiamava Lorinil e che mio padre di lavoro produceva i sabretti che di dato vostro liberato, cento gravi ed aggrimil e che giro sempre armato, manco fossi per così potrei dirvi che ho sfondato beh, non c'era molto ma almeno un parabresa l'ho infligato potrei dirvi che sono super dotato e per questo mio problema a militare mi hanno rinformato ma credete mi sono cambiato ora lo fumo, non bevo e trombo solo quando è programmato Non potrei dirvi che ho dimenticato chi sono andato per per perché tu nessuno sta qui vai Mocky Man, faràci una bomba vai Mocky Man, faràci una bomba vai Mocky Man, farà un'altra bomba una bomba e sta vai Mocky Man, faràci una bomba Mocky Man, farà un'altra bomba vai Mocky Man, faràci una bomba una bomba e... Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.